Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, coda e attratti per traffico verso nord tra Firenze Scandicci e B1 variante. Careggiata opposta resta coda per traffico in uscita a Firenze Scandicci. In A11 permangono rallentamenti per traffico verso il capoluogo tra Prato Ovest e Firenze Ovest. In Fipili, code e attratti per viabilità esterna che non riceve tra la Strassigna e Firenze Scandicci verso Firenze. Careggiata opposta a coda in uscita a Cascina e code e attratti tra Firenze Vedotta all'Indiano e Scandicci. Prima di salutarci per il traffico ferroviario per un guasto agli impianti di circolazione tra le stazioni di Pisa e Torre del Lago, i treni in linea potranno subire ritardi, modifiche o cancellazioni. Muoverse in Toscana Info è un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!